massimiliano allegri si apre in un'intervista molto interessante rilasciata ad azon direttamente con il suo ex giocatore ma anche attuale amico andrea barzagli si vede che tra due c'è un grande feeling ed è per questo che l'intervista è molto interessante oggi andiamola ad analizzare perché c'erano le cose interessanti perché si parla di vlauch di pogba ma anche qualche piccola stoccatina lanciata proprio a paolo di balla c'è un po il resoconto tra l'altro alcuni spezzoni li potete trovare su one football come poter scaricare one football in maniera del tutto gratuita semplicemente dal link ovviamente qui sotto in descrizione dovete cliccare su questo link è automaticamente gratuita mentre avete questa app sul vostro cellulare inoltre vi ricordo che per essere super aggiornati sul mondo del calcio mercato vi consiglio di iscrivervi perché arriveranno tanti contenuti a tema mercato nelle prossime nei prossimi giorni quindi mi raccomando iscrivetevi perché alcuni guarder video senza essere iscritti ma per quale motivo iscrivetevi è anche più facile poi ottenere l'arrivo dei nuovi video e allora è un allegri che viene confermato tra l'altro non so chi mette in giro queste voci sul possibile sonero e arrivo di sidan alla juventus io francamente molti me lo chiedete nei commenti io veramente stento a capire per quale motivo non perché è impossibile nel senso che juventus non potrebbe mai farlo ma perché non lo farà semplicemente non è nei piani la juventus il finale all'anno scorso si è prefissato un obiettivo non fare più annate singole con allenatori che non convincono l'avventus crede molto in allegri nonostante questa annata non esaltante ma un progetto è convinta che cambiare per l'ennesima volta sia contro il progetto ed è per questo quindi che si va avanti ma lui è consapevole allegri è consapevole di questa annata non esaltante infatti dice milan inter e napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non ci erano superiori cioè lui qua fa diciamo una sorta di mia colpa dice siamo arrivati dietro ma per quasi per de meriti nostri se non abbiamo vinto mai nei scontri diretti qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione la leadership o ce l'hai o difficilmente ti viene a una certa età in questo gruppo che lì ne è stato importante come te andrea come buffon marchisio parlando degli italiani ecco questo è un primo aspetto da analizzare perché quasi capisce il perché il buon proprio il buon allegri fa riferimento a questi giocatori che mancano fa riferimento solo a chiellini chiellini che tra l'altro andrà via e non fa riferimento ai di bala e a questi giocatori qua e qua capiamo il perché proprio massimile allegri a fine anno va dalla dirigenza e dice io ho bisogno di giocatori esperti forti e quindi da qui vengono i nomi di di maria i nuovi di pogba perché ha bisogno di leadership lo dice chiaramente la leadership o ce l'hai o difficilmente di meno una certa età la leadership con po qua e di maria di leadership ne hai perché gente che ha vinto tanto e gente che ha portato a casa tanti trofei e gente che ha messo da parte tante belle soddisfazioni in carriera e chi saranno i nuovi leader della juventus per il futuro ce ne sono due non dice vlauch perché molti direbbero c'è vlauch invece no dice di league e locatelli manuel è stato un ottimo acquisto potrà essere il capitano il capitano futuro ha le caratteristiche tecniche ma attenzione e morali per stare tanti anni alla juventus io aspettavo che facesse immediatamente il nome di danilo invece lui parla già al futuro parla quindi anche in prospettiva e dice delitto e locatelli poi quest'anno è stato una piacevole sorpresa danilo ed eccolo qua danilo io me lo aspettavo come primo nome e invece lui prima fa quello di due giovani poi come terzo mette danilo quando parla non è mai banale mette davanti la squadra un vero leader e silenzioso deve parlare poco deve mettere sempre davanti la squadra e lui lo fa e la squadra che ti riconosce come leader miretti ha fatto quattro partite buone è stato molto bravo la sua qualità è l'affidabilità e andiamo al discorso legato a dujan blouch vi faccio una premessa non parlerò di tutta l'intervista insieme perché ci sono lo dividerò in due blocchi perché è veramente lunga e ci sono tante tematiche due di parlare perché si parla anche di pogba ma attenzione perché ci sono tanti argomenti in mezzo e nel prossimo che uscirà a breve praticamente dopo qualche ora ecco che parlerà non solo di pogba e della leadership ma anche di paolo di bala e del perché di bala lascerà la juventus qui però e nel prossimo parleremo di di bala ma parlerà anche nel perché ha detto no al real madrid oggi però ci soffermiamo su questa parte ci soffermiamo anche sulla parte su vlauic perché non ha inserito vlauic come leader io mi aspettavo che dicesse si danilo ma poi delicte e vlauic invece ha messo delicte locatelli di vlauic cosa dice dice che può essere un leader a modo suo ha un carattere leale vuole sempre vincere più che con le parole diventerà un leader carismatico in campo a livello caratteriale ecco qua esce il pensiero vero e cristallino su quello che è il giocatore ho allenato cristiano ronaldo ibraio c'era un al digno robinho cassano sedorf pirlo e buffon di certo non quattro scappati di casa un fuoriclasse a parte quando si metteva in porta e non si buttava parliamo di parliamo di buffon l'unico che mi è mancato allenare e messi mi emoziona ancora se penso alle annate trascorse con grandi giocatori che mi hanno insegnato e dato tanto con loro ho avuto anche dei trascorsi importanti ma il campione non è quello che esce dallo spogliatoio sconsolato e chiama il procuratore è quello che tira fuori l'orgoglio ti dimostra che ancora un campione e così va in campo e vince le partite una prima parte quindi molto emblematica di chiacchierata diciamo così perché non è stata tanto un intervista perché il bello di questi format farti da fatti da da zone sono proprio che sono fatti da gente o giornalisti o eventualmente ex giocatori come come barzaghi che sono molto giovani e quindi diciamo l'approccio è molto meno formale molto più infatti viene fatta con una passeggiata fatta credo alla continasse insomma questi sono degli estratti presi proprio da da zone e quindi è una cosa molto molto informale però è molto bella perché vedi proprio l'autenticità e il fatto che abbia indicato quei due giocatori cioè di litte locatelli come possibili nuovi giocatori per il futuro è molto bello perché ci fa capire come la juventus oltre alle abilità in campo va cercando sul mercato ed elitte locatelli sono due nomi da questo punto di vista va cercando anche dei delle persone importanti delle personalità importanti con caratteristiche morali di locatelli dice a caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla juve e questo è vero c'è lo cadere lo vediamo quando è in campo non è lo sbruffoncello di 23 anni che pensa di essere già un fenomeno sembra già un ragazzo di 30 anni sia fisicamente che anche caratteristiche anche quando parla i microfoni stessa cosa dell'icte e questo sono aspetti importanti e la juventus quando si parla di juventus che non punta sui giovani non è vero ci punta sui giovani ma i giovani devono essere forti cioè l'egri lo ha sempre detto i giovani devono essere devono stare la juventus ma devono essere forti forti e l'elitto e locatelli sono forti forti blavich è forte forte lo è anche federico chiesa di cui non si parla qui ma anche lui a livello sia tecnico che caratteriale beh è un bel tipetto davvero cosa ne pensate di questa prima intervista io invito come sempre a supportarci iscrivervi al canale scrivete perché sotto la vostra e soprattutto tra poche ore uscirà la seconda parte dedicata a che cosa a pogba e le parole di allegri su pogba e alle parole di allegri sul perché ha detto no al real marito spiegandolo per bene al perché di balla lascerà la juventus ea come la juventus può tornare a vincere